Allora, ci ho speso 6 euro e 69, allora ci gioco Ok, ah con la altera gioco, va bene, dai ce la posso fare Eeeh, con che audio? Premi la qualunque A per iniziare Ok Ma era una battuta, non l'ho capita No, no, non andiamo troppo nell'esagerato, andiamo su Godville Ok, e io sono la capra Ah ma ci sono anche degli obiettivi, eeeh, fatto Oh yes Allora, con questo si slecca, con questo si, aia, oh Pronto, pronto Proviamo, aia Ah ma quindi lo scopo è fare più pronti possibili spaccando, va bene, aia, porca troia Occhio eh Porca miseria Ah infatti era anche un obiettivo da fare Dai su, forza e coraggio Mi sto divertendo, aia Ah ma sono i punti che fanno quel rumore fastidioso, pensavo fossero le zampette Bello Funny Ah Ok Come scusi? Non ho capito Che reazione esagerata ma, porca vacca Cos'è? Cosa succede? Cosa succede? Oh pronto Ah Ah No ma è figo comunque Aia porca miseria Ostia Eh Vabbè dai Porca E vabbè ma che materassi di gomma Eeeh Quanta esagerazione però Lo stop Non l'ho preso Aia ma perché? Allora con questo do l'incornata Vediamo se funziona Porca Eeeh Stanno protestando per Non puoi antifor Scusa Madonna Gravissimo Ah sono le tette Madonna Pensavo di averle fatto uscire lo sterno Scusi signorina Scusi Scusi Palla Lecco Mi piace leccare le cose Guarda C'è un canestro? No È divertente comunque Mi sto divertendo Aia oh Aia malissimo Eeeh Con che lingua? Aia oh Male male Aia Pronto Oh ma sei Porca Troia Ma sono scriptate ste cose Ma se mi attacco così? Non si attacca Ma c'è il multipliers Mi porto via il mio cugino Comunque dicevano tutti che era un gioco che dopo mezz'ora ti rompeva il cazzo Però sembra molto divertente Ci puoi fare di tutto Aiaiaiaiaiaiaua Porcate Aiaiaia Ti puoi fare malissimo E lì c'è qualcosa Permesso Cos'è? Cos'è? Uno di trenta E la madò Tanto i controlli sono più Casinari che altro Cazzo È quasi ingiocabile col pad Ah Lecchiamo un po' il cemento Dai Facciamo Facciamo Veramente la simulazione di capre Le capre cosa fanno? vanno in giro e si mangiano i fiori non si può fare questo? signore, una mano eh, malissimo beh dai, si è riavviato aia ma perché deve correre come un cane che ha i vermi, aia porca miseria, guarda ma adesso no e vabbè, posso entrare in casa? oh, che bello quante belle cose da mangiare scusa scusa, ti ho chiesto scusa ho visto male io, scusa, scusate oh madonna, pericolosissima una capra in casa sarà mica per questo che non le fanno entrare si corre qui? aia ma scusa, ma se corro abbastanza rapido ce la fa attenzione no, niente pericolosissimo eeeh, quante cose stanno succedendo comunque è molto iperrealistico puoi fare delle cose belle quindi è bello occhio, occhio questo esplode eeeh eeeh, vabbè è la capra più forte adesso succede un macello attenzione non potevi frenare? ma dai imbecille, fermati ma ma quello lì è un folle come cazzo è che si guida l'elicottero? matto beh, l'acqua è fatta molto bene che cesto era? oh ma madonna scusate ma non c'era una porta per entrare anziché ah, scusi eeeh vabbè ma è impaurito o sta ballando pronto? aia ma voi giustamente vi starei chiedendo gatto ma perché hai comprato questo gioco di merda per farci un video di merda che non divertirà un cazzo di nessuno ebbene che ci crediate o meno io mi sto divertendo ma se sono solo delle patatine eeeh scusi, scusi volevo mangiare le patatine e madonna spaventali aia comunque a me questi giochi del cazzo mi divertano tremendamente tanto chiamatemi bambino chiamatemi stronzo ma chi non vorrebbe una volta nella vita saltare su un tappeto per bambini impersonando una capra aia oh eh wow cazzo ciao ciao